Se inizio io il discorso di questo incontro, ma ho un compito quasi preciso. Ho le salute del Presidente dell'Accademia delle Scienze del Perino, che attualmente è fuori, rappresenta l'Accademia del Mundo e mi ha pregato in sostanza di portare i suoi saliti e partecipi per così dire in spirito a questo incontro. Un incontro che è nato per ricordare uno dei primi momenti in cui è iniziato il discorso sulle libertà costituzionali. Un discorso che non solo iniziato in Inghilterra, ma certamente appunto di Inghilterra 100 anni fa, in questo preciso giorno, una famiglia che è stata riconosciuta poi nel tempo e nel tempo anche individuata. Non è stata proprio l'invenzione della tradizione, ma è stata sicuramente indicata nella costellazione dei momenti importanti in sostanza in cui il Medioevo produceva se stesso come rapporti di garanzia reciproca tra il sovrano e i subiti di alto livello, in sostanza paroni, sceriffi, come suona l'altro il primo articolo della Magna Carta Libertà, dove si arriva fino ai subiti, ma passando prima attraverso l'indicazione di tutti i rappresentanti delle classi sociali anche. Per fare questo ricordo e rivisitazione, non so se sia giusto, ma poi i relatori correggeranno questa mia definizione, l'Accademia ha pensato di affidarsi a tre esperti. Di valore internazionale. Non ho bisogno di presentare in modo dettagliato, sono tutti e tre soci nazionali residenti o non residenti, come in particolare il professore Antonio Pagno Schioppa, incomincio da lui ricordando che è il professore medico di Stato del diritto dell'Università di Milano, sarà presidente di questa riunione, di questo incontro, il professor Giuseppe Sergi che è professore di diritto medievale nell'atemia torinese, infine il professor Massimo Salvatori, professore medico, già titolare e ordinario di storia del pensiero politico. Non rubo altro tempo, chiedo allora al professor Giuseppe Sergi di venire qui, impancarsi alla presidenza e chiamare il direttore. Grazie. 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 Come ha già accennato il collega Gianotti, la ricorrenza dei 200 anni è una ricorrenza che non riguarda solo l'anno solare, non riguarda solo la giornata di oggi. Ovviamente siamo stati preceduti, preceduti dalle istituzioni inglesi, dalla regina, come giusto sia, ma siamo stati preceduti anche da Google. Qualcuno dei presenti avrà notato che sopra il campo di ricerca del motore Google oggi c'era, e c'è, un doodle, cioè un'animazione che fa riferimento proprio alla magna carta. Quindi non possiamo avere la pretesa delle ore in aprile, però credo faccia fede alla presentazione dei due relatori che hanno già fatto Gianotti prima di me, siamo in grado di esprimere, però tutto come accademia, delle competenze di entrambi i due relatori sicuramente difficili da eguagliare. Io, prima di passare alla loro parola, questo è stato dato anche il compito di fare una breve introduzione, vorrei fermarmi quasi più sul contesto da cui nasce nella magna carta libertatum, più che sul testo specifico in cui i due relatori hanno competenze non superiori e le mie e hanno anche ricevuto il carico specifico di trattato. Il contesto è un contesto molto particolare che, ai miei diristi, interessa in modo speciale, soprattutto perché in Inghilterra si trova, sviluppato in particolare prima, alla vigilia, nei decenni precedenti della magna carta, si trova un sistema che da un lato sembra al lettore comune di cose di varie, un sistema molto normale. Ma tanto normale non è. Perché dico questo? Lo dico perché normalmente nelle scuole, purtroppo ancora adesso, si insegna abbastanza frequentemente che il sistema di gestione del potere, là dove c'erano i regni funzionanti, era un sistema feudale in cui c'era perfetta coincidenza fra il funzionario ufficiale regio e il massato. Ora, questa vecchia immagine, tipo l'immagine della piramide che ha accompagnato molto della nostra infanzia quando andavamo a scuola, è un'immagine che è stata completamente distrutta, ma a partire da una robloca in poi per le istituzioni continentali. Il termine deve essere davvero così. Ecco perché, ripeto, è una situazione molto particolare che non è affatto estranea alla genesi del testo che oggi celebriamo e di cui parliamo. La situazione molto particolare è quella per cui i funzionari regi, i cosiddetti baroni, sono anche vassali regi. Cioè questa coincidenza che a noi sembra normale se lavoriamo sui ricordi scolastici, che però se abbiamo fatto letture aggiornate, diciamo, degli ultimi decenni del secolo scorso, non ci crediamo più, perché l'Inghilterra è vero. Basti pensare perché i baroni si chiamano baroni. I baroni si chiamano baroni perché in anglosassone, bes, la parola bes vuol dire uomo, vir, e il modo anglosassone di indicare l'uomo di. Quindi i baroni sono uomini del re, con una terminologia ma soprattutto con un ricorso, con un apparato concettuale, tipicamente vassalatico. Era quel irrigidimento del sistema feudale romano che Guglielmo il conquistatore aveva importato in terra. Quindi i primi ufficiali sono i capi militari che li ha portati con sé, trasformati in funzionari. Questo quadro è un quadro che c'entra molto con il nostro tema di oggi perché tutti i decenni precedenti e moltissimo, credo che ne parlerà, ne parla schioppa, moltissimo in quelli successivi al 1215, sono decenni di una dialettica serrata, qualche volta anche sanguinosa, fra baroni che non si limitano a essere ufficiali che non fanno fino a un fondo il loro compito, ma sono anche ribelli, in un certo senso sono ribassalli felloni, che però hanno una capacità, come dovremo fare un attimo, di contare in qualche fase della storia inglese più del re. Giovanni, ad esempio, Giovanni senza terra, Reckland, come lo chiamano in terra, la dinastia dei plantageneti, è l'espressione di una curiosa contraddizione, cioè la volontà di distinguere le specifiche istituzioni inglesi dal concorrente regno di Francia, nonostante le origini sue e le origini della dinastia dei plantageneti, i francesi siano, perché i plantageneti non sono altro che un ramo degli angioidi. Giovanni introduce dei giudici regi itineranti, in modo che le sedute di tribunale locale possano essere presiedute dai giudici regi. Questo perché avviene? Avviene perché il tipico funzionario minore di quel contesto istituzionale era lo sceriffo. E in realtà per secoli in Inghilterra il controllo degli sceriffi, se lo contendono i re e i baroni, in alcune fasi di quella storia degli sceriffi, riferiscono ai baroni, in alcuni casi riferiscono a questi direttamente terra. Per superare il buio, Giovanni introduce la figura dei giudici regi itineranti. Qui c'è un elemento interessante perché in questa idea è aiutato da Thomas Beckett, dal famoso Thomas Beckett, che poi però nel 1170, come lo diciamo siamo ancora fino al secolo precedente, dato che si era opposto alla limitazione della libertà e della tassazione e dell'introduzione della tassazione delle chiese, viene comunque molto molto ucciso. In questa fase, intorno a lei, non c'è il nero Parlamento ancora, su questo ogni tanto c'è qualche equivoco, c'è un consiglio, un consiglio generico, piuttosto fluido sui margini esterni, che è come in altri regni europei, un insieme di ordini fiscali, finanziari, bellici, ecclesiastici. E il secolo XII, non sempre, il secolo precedente a quello della Magna Carta, è un interessante secolo di forte impegno culturale di vari ambienti inglesi, in cui nascono i miti di Artù e della Tavola Rotonda. Ed è un altro, questo richiamo a Gartù della Tavola Rotonda, è un altro di quegli elementi che ci fanno capire come ci sia la volontà. Giustamente Gianotti ha detto prima che qui ci troviamo di fronte, lui l'ha detto per la Magna Carta e ha perfettamente ragione, nello sfruttamento ideologico della Magna Carta e poi dei secoli successivi, non c'è quella vera invenzione della tradizione di cui qui in questa sala ci siamo occupati quando abbiamo celebrato Obstom. È un uso, è impiegare, è mettere in primo piano gli aspetti sempre certo a fini concorrenziali nazionalistici, però non è una vera invenzione. Quella del XII secolo è erogosissima, sotto questo punto di vista, perché è curioso che la cultura inglese tiri fuori dei miti di tipo celtico, che in realtà lo sassone non sono, e usi dei miti di tipo celtico quindi con qualche elemento di forte parentela con le origini francesi, le aree di provenienza dei primi celti delle isole britanniche, in funzione anche ai francesi, proprio perché la tavola rotonda ad esempio serve a dimostrare che negli inglesi c'è la vocazione parlamentare, c'è la vocazione di usare al massimo coloro che circondano il potere centrale. Sulla Magna Carta proprio qualche dato assolutamente essenziale, è opinione comune degli storici che Giovanni fosse stato costretto a concedere questo impegno a non imporre le nuove tasse senza un'assemblea di escurie baroni eccetera, ma non mi fermo su questo per non far perdere tempo, non si nega la giustizia a nessuno, non la si deve vendere, non si deve far arrestare un uomo libero se non per giudizio dei suoi pari, ecco di questo sentiremo parole più analitiche fra poco. La cosa che mi interessa sottolineare subito è che Giovanni era convinto di essere a posto, cioè dice io accetto questa concessione che mi è stata imposta, il Papa la boccerà e quindi io sarò a posto. La cosa succede davvero, l'Indocenzo Terzo dice che è in esatto, il problema è che Giovanni senza terra muore, il figlio Enrico Terzo ha solo otto anni, diventa re ha otto anni, quindi potete capire che peso aveva quel gruppo intorno al re, quando il re è un bambino. E infatti nel 1216 la mia carta viene approvata definitivamente senza dare peso a quel giudizio negativo di Indocenzo Terzo. Non c'è ancora il Parlamento in quel momento, il Parlamento viene istituito di nuovo per costrizione dei baroni nei confronti di un Enrico Terzo cresciuto nel frattempo nel 1258 con le provvisioni di Oxford. In quel momento nasce davvero il Parlamento, un Parlamento che contiene anche questo interessante dei rappresentanti di cavalieri e rappresentanti di molte città del Regno inglese. Questo è interessante per noi storici perché è una tendenza che sta circolando in Europa in generale, questi rappresentanti delle città, ad esempio ricordano molto i rappresentanti di Fueros, nei regni spagnoli. E in quegli anni è molto attivo un giurista che è Enrico di Brackton, che muore 15 anni prima di quando, nel 1284, il Parlamento si metterà a funzionare regolarmente. Qual è la funzione di Brackton? La funzione di Brackton, non so se questo è un parere condiviso di una grande storica del diritto, ma è quello che elimina, cioè non elimina, ma comunque tende a sostituire al concetto dei pari quelli che devono giudicare, bisogna essere sempre giudicati dai pari. La nozione dei pari comincia a essere sostituita dalla nozione di tutti. Questa è la svolta, è la svolta che si aggancia a quel Parlamento che deve lato alla magna carta di cui parliamo oggi, ma che nasce dopo. Nasce dopo e si mette a funzionare regolarmente dal 1284. Certo, questo è legato anche a questi tutti, non sono davvero tutti, perché la nozione di libertà è una nozione molto discussa. non c'è dubbio che un secolo fondamentale poi nel dopo è il Seicento. Un secolo fondamentale viene un secolo contraddittore. Da un lato il Seicento è il secolo che crea, con i suoi eruditi, il mito della manna carta, quello stesso in cui continuiamo a vivere tutti noi. Al tempo stesso però il Seicento è anche un secolo di un assolutismo che vive con fastidio la presenza di questi condizionamenti. I condizionamenti che continuano a pesare anche nei secoli successivi, tant'è vero che cosa non abbastanza notte la manna carta a poco a poco si impoverisce di alcuni suoi articoli, finché nell'Ottocento si riduce quasi proprio a pochissimi aspetti. L'Abbia Scorpus, di cui non è mio compito più parlare, che è una delle voci più interessanti del campo giuridico che con la manna carta affrontiamo, sopravvive insieme a una libertà della Chiesa inglese, privilegi specifici della città di Londra, ma intanto si è molto impoverita perché da un lato la superiorità inglese ha una manna carta un tassello fondamentale molto usato, ripeto, non inventato, ma molto usato in senso propagandistico, però al tempo stesso la concretezza della politica prende in più di un caso altre strade. E comunque dal Seicento è dalla parte orgogliosa, dall'orgoglio antifrancese che attinge Walter Scott nell'Ottocento. Gli anglosassoni sono buoni e i francesi, i romani, i francesi sono cattivi. Grazie, lascio la parola a tutti.